segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te quindi insomma siete un po e la e la todde ha ironizzato molto la meloni stasera sulla candidata del centro sinistra dicendo riducendo tutto il suo programma l'anti fascismo e quindi insomma ha giocato molto d'attacco la presidente del consiglio che anche ironizzato sul fatto che non c'è bisogno di farsi chiamare la presidenta vorremmo dire alla presidente del consiglio che il o la presidente del consiglio la presidenta non so qualche problema con la grammatica a qualcuno quindi versani ma insomma che meloni ironizi sulla todde mi fa abbastanza sorridere sta parlando di una signora abbastanza giovane ancora anzi giovane che sa cinque lingue ha lavorato in otto paesi una di queste lingue il sardo tanto per capirci che ha un programma che basta andarselo a leggere certo che l'antifascismo non è mica una nocciolina cioè dall'antifascismo derivano dei fatti la costituzione antifascista non senso non è solo nel senso che impedisce la ricostruzione del partito fascista ma antifascista nell'articolo 3 dell'uguaglianza dove parla di diritto alla salute universalistico dove parla di progressività fiscale dove parla di discipline onore nella funzione nelle funzioni pubbliche certi fascismo non sono noccioline ecco dopodiché se lei ha fatto politica tutta la vita io mi inchino e le dico io ho pettinato le bambole tutta la vita ecco lei ha pettinato le bambole da un qualche decennio la conosciamo ce la ricordiamo in un'altra versione ma e siccome so che ha fatto tutto loro no hanno fatto tutto loro sono delle eroine degli eroi delle vittime e di tutto quanto e l'hanno fatto tutto loro gli altri sono tutti dei debocciati e ciao e va bene va bene così avanti quindi so che adesso deve andare a pettinare altre bambole quindi la lascio la lascio al suo tour sardo grazie per luigi versani voglio sentire andrea scanzi